Alessandro Casano, oggi è il gran giorno della presentazione dei 25 candidati per alternative indipendenti. Oggi presentiamo la nostra lista, una lista di 25 persone, dovevano essere 27 inizialmente, sono 25, una lista di rappresentanze assolutamente della società civile, di varie estrazioni, una lista di persone libere che non si ritrovano assolutamente nell'offerta politica che vediamo in questa competizione elettorale, quindi noi non guardiamo a Scagliola, non guardiamo a Lanteri, essendo il centro-destra, e vogliamo dare un'alternativa all'elettore di centro-destra che non si riconosce nessuno di questi due schieramenti che ripropongono schemi politici e logiche clientelari assolutamente vecchie, che hanno portato la città al declino totale. Dall'altra parte abbiamo l'amministrazione nascente, targata PD, che ovviamente moltissime persone non vogliono rivedere, amministrare questa città, visti i risultati conseguiti.